Per me il più importante è fare bene al campo, io penso che gli anni sono molto importanti perché sono buoni alla testa, in ogni allenamento dobbiamo andare forte, io credo a tutti i tre partieri. Io penso che gli anni non sono importanti perché fai bene con la testa, bene al campo e gli anni sono solo… Quindi io non ho mai paura? No, perché? Perché il ruolo di portiere, per giovani c'è molta difficoltà, però se tu fai bene io penso che è l'opposto a tutto. Ogni campionato è diverso da ogni altra, ma per questo campionato io credo che saliamo prima e facciamo un bel risultato come al mezzo di tabella o più. Io devo chiedere come magazzineri, come due volte perché la prima volta loro parlano poco palermitano, è poco difficile, però posso capire molto, ma per parlare è poco difficile perché sono qua. Non ho tanto tempo per imparare ogni giorno e mi credo che dopo un mese, due, tre, parlare meglio e meglio. All'Interzato hai avuto modo di inserirlo tu? Sì, io gioco con lui all'Inter e adesso quando lui arriva qua io voglio aiutare lui per fare un buon lavoro. Siamo amici come tutti noi qua, come una famiglia. Palermo è una bellissima città e sono molto felice che posso giocare a Palermo. Sì, io ho fatto ora di mie dito, però quella cosa, non fare niente al mio testo, io ogni giorno allenato. Io mi credo in Presidente, io voglio fare un buon lavoro per tutti noi, anche per lui e per tutto Palermo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.